9 tonnellate di angurie con falsa tracciabilità che provenivano dalla Grecia o addirittura dall'Africa ma confezionate in modo da ingannare i consumatori grazie ad un packaging, scatoloni ed imballaggi con etichette che invece facevano immaginare la provenienza locale. Ma non solo, anche 2 tonnellate di carciofi, 300 litri di vino e 1500 litri di olio di oliva sfuso in lattine venduto per olio extravergine ma in realtà privo di etichettatura che ne attestasse la tracciabilità e la qualità. Nei guai per questo è finito un imprenditore agricolo di 60 anni di Nardò. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli insieme agli uomini del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Masaf, della Puglia e della Basilicata hanno permesso di rilevare come l'azienda sottoposto a controllo avrebbe mascherato la tracciabilità del prodotto proveniente dall'estero per venderlo come di origine e coltivazione italiana. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci, mentre tutta la merce è stata sottoposta a sequestro. Nel corso dell'intervento sono stati anche identificati due lavoratori irregolari che prestavano la propria opera completamente in nero. Sono in corso da parte delle Fiamme Gialle e Gallipoline altri approfondimenti e riscontri documentali con l'obiettivo di accertare eventuali irregolarità di natura fiscale e contributiva.